L'inserimento dei disabili nella scuola è un processo mai definito, mai definitivo, mai conchiuso. In una società aperta e democratica come la nostra, attenta alla persona, alle sue caratteristiche individuali, alle sue difficoltà, ai suoi particolarissimi bisogni, è in un mondo libero e attento ai valori. Questo processo dell'inserimento dei disabili, dell'attenzione ai disabili, è sempre nuovo, è sempre un problema, rappresenta sempre una problematica fondamentale. E lo abbiamo visto nel percorso della lezione precedente, nella lezione numero 2, dapprima la legge 118-71 che apre finalmente all'inserimento all'interno della scuola comune dei soggetti disabili. E poi i decreti delegati che aggiungono qualcosa al clima. La legge istitutiva del tempo pieno, che parla di nuovi linguaggi, che sembra offrire il linguaggio proprio a ciascuno dei disabili. La legge 517. E poi il decentramento, questo trasferimento di poteri dal centro alle periferie, come occasione per un'attenzione più puntuale, ancora più vicina, più attenta. L'autonomia scolastica, con i poteri dati alle istituzioni scolastiche. Il principio di sussidiarietà, questo importante principio di attenzione, di aiuto, di piegamento verso i bisogni delle persone, dei cittadini. La buona scuola. Infine, l'internazionalizzazione della questione. È il mondo intero che si occupa in sinergia, in grande collaborazione fra tutti gli stati di questo problema. L'Organizzazione Mondiale della Sanità propone il modello ICF. Sono tutte cose che abbiamo ascoltato nella lezione precedente. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, con la loro Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità nel 2006, come vedete, è un mondo che si muove, il mondo libero, il mondo democratico che si piega agli interessi e ai bisogni dei soggetti più deboli, dei soggetti più bisognosi. In una nuova visione generale, questa nuova visione generale che ha un nome ben preciso, diversità. La diversità è intesa non più come un elemento di discriminazione, come un motivo di discriminazione, ma come l'affermazione dell'unicità della persona, dell'originalità, dell'irripetibilità della persona, del soggetto umano. Ciascuna persona è a sé, ha dei suoi caratteri. Bene, partendo da questo principio, le attenzioni per la disabilità non si sono mai arrestate, perché il processo è cominciato ad avere i caratteri di uno sforzo continuo e costante per corrispondere ai bisogni della persona, a tutte le caratteristiche dei singoli. Abbiamo detto la caratteristica di una società democratica è l'attenzione al più debole, a chi ha bisogno. E quindi il disabile in una società civile, in una società democratica, è al centro dell'attenzione, costantemente al centro dell'attenzione, in uno sforzo mai conchiuso, come detto, con risultati che non vengono mai considerati definitivi, con risposte che non vengono mai considerate esaustive, adeguate al momento, ma sicuramente da migliorare. Ne sono prova le tante norme, la grande legislazione per la disabilità, che si succedono queste norme una con l'altra, con correzioni a volte marginali, a volte di sostanza, ma in un processo che non ha mai fine. Ecco dagli inizi del problema, nel lontano 1971, una serie di norme, di leggi, di ordinanze, di direttive, di linee guida, che hanno sempre modificato in meglio, registrando appunto agli occhi di tutti uno sforzo costante di miglioramento e di attenzione. Negli ultimi tempi la strategia complessiva la possiamo sintetizzare in un termine. Questo termine è inclusione. Ecco, questa parola, inclusione, rappresenta la direzione di marcia verso la riflessione pedagogica, verso la legislazione, quindi verso la sperimentazione anche delle scuole. Quindi si parla oggi di pedagogia dell'inclusione, si parla di metodi e tecniche e di didattica dell'inclusione, di competenze dei docenti per l'inclusione dei disabili, di organizzazione dell'unità scolastica finalizzata all'inclusione. Vedete, il problema viene in questi ultimi tempi aggredito da tutti i punti di vista. L'unità scolastica è il centro di attenzione di un problema che deve appunto essere costantemente sviluppato a vantaggio del disabile, dei suoi problemi. E l'attenzione è sempre più attenta al singolo allievo, del quale si vuole conoscere ogni aspetto della personalità, il vissuto, la storia personale, le caratteristiche personali, si scopre che tutti hanno difficoltà particolari e bisogni particolari, più o meno gravi, più o meno complessi. E dunque si allarga la problematica. Non si parla più di disabilità, ma si parla di disturbi specifici di apprendimento, il DSA. Si parla di bisogni educativi speciali, BES. Si presta attenzione ai soggetti di altra nazionalità e di altra cultura, ai bambini adottati, ai bambini orfani, ai bambini inseriti in strutture, privi di famiglia. Ecco, l'attenzione si allarga, nel senso della diversità, ai diversissimi problemi che investono la persona, che investono in particolare i minori in età scolare. Ecco l'importanza della conoscenza completa di ciascun alunno quando si pensa alla valutazione iniziale dell'alunno che entra a scuola. Ecco, è un problema molto importante, è una responsabilità molto importante degli insegnanti, quella di avere un quadro preciso di ciascun alunno. Non sono un problema da interpretare soltanto le situazioni di disabilità, ma abbiamo visto quando si parla di bisogni educativi speciali, in sostanza si parla di qualsiasi persona, di qualsiasi bambino, perché ogni bambino ha un bisogno speciale, ha bisogno di un'attenzione particolare, di un modo particolare di approccio, di relazione, ecco, di apprendimento, di socializzazione. Ecco l'importanza quindi della conoscenza iniziale di ogni alunno, perché questa conoscenza iniziale di ogni bambino rappresenta effettivamente la base e il fondamento del progetto educativo e didattico. Allora il problema oggi è integrazione o inclusione? Questa parola viene introdotta nel campo scolastico italiano dal decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 66 che è attuativo della legge 107 2015, cioè la buona scuola, però di inclusione si parlava già da tempo, da qualche anno. Ecco questa legge esplicita diverse cose. Anzitutto esplicita in concetto la necessità, gli ambiti dell'inclusione. Questo decreto legge ha appunto questo titolo, promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Prevede innovazioni in ogni settore del processo educativo, sul piano didattico, organizzativo, su ogni aspetto appunto della realtà scolastica per assicurare l'inclusione di tutti e di ciascuno nella direzione del successo formativo. Nessuna difficoltà, nessuna disabilità, nessun problema particolare deve impedire al soggetto di perseguire e raggiungere il successo formativo, e cioè la piena realizzazione della sua personalità. Dapprima il passaggio dall'inserimento all'integrazione, dove integrazione era più che inserimento, dove il secondo termine faceva pensare a una presenza finalizzata, a una significativa partecipazione del disabile alla realtà che lo accoglieva. Era il risultato in sostanza del discorso del documento Falcucci in un primo momento e della legge 517 poi. L'integrazione è più che l'inserimento, l'inserimento è la semplice presenza dell'alunno disabile nella scuola. L'integrazione, invece, è l'inserimento completo in questo contesto. Oggi, però, questo concetto di integrazione non soddisfa. Il confronto si fa tra integrazione e inclusione, a voler rimarcare ancora una volta la profonda partecipazione del disabile ai processi di apprendimento e di socializzazione all'interno della classe scolastica e nella scuola nel suo complesso. Infatti vediamo che nei documenti ufficiali del Ministero, decreti, direttive, linee guida circolari, si va insistendo su tale termine, anche prima del decreto 66 del 2017. Si insiste su tale termine che viene considerato più adeguato, più congruo a postulare una presenza completa e significativa del disabile nella vita scolastica. Quindi inclusione e non integrazione, assegnare un ulteriore progresso nelle modalità dell'accoglienza. Che differenza c'è tra integrazione e inclusione? Veramente nel linguaggio comune facciamo un po' fatica a marcare le differenze. Integrazione e inclusione si sembrano dei sinonimi. Integrarsi in un contesto, essere inclusi in un contesto. Ecco, ciò però accade soltanto nel linguaggio comune. Nel campo educativo invece la differenza c'è ed è sostanziale. E adesso cercheremo di scoprirla. Ecco, nel linguaggio scolastico invece, all'integrazione si dà il significato dell'inserimento in una realtà costituita costituita in un sistema organizzato nel quale, appunto, anche se con qualche accorgimento particolare si inserisce chi non ha in pieno le capacità o le possibilità di far parte di questo contesto. Ecco, l'integrazione è l'inserimento in una realtà già pronta, definita, strutturata. Cioè l'adeguamento a un corpus definito anche se è predisposto ad accogliere. Ecco, nell'integrazione c'è un inserimento in un contesto. Ecco, uno spostamento verso questo contesto colmando magari delle difficoltà, come in occasione del disabile, ma il contesto rimane quello. L'inclusione, invece, non accetta contesti già strutturati. L'inclusione è, invece, l'inserimento, la partecipazione di tutti e di ciascuno in una realtà da costruire. Da costruire come? sulla base delle caratteristiche e dei bisogni di questi soggetti che entrano a costituire il corpus, il gruppo. Ecco la differenza. La prima definizione sembra chiamare in causa solo i soggetti disabili per i quali deve essere trovata la strada per entrare a far parte di una determinata realtà. in questo caso la scuola. La scuola che ha i suoi programmi, i suoi metodi, i suoi strumenti tecnici, la sua didattica. Si tratta di aggiustare qualcosa di questi aspetti. Ecco, trovare i necessari accorgimenti per assicurare l'ingresso nell'ingranaggio. bello e pronto. Questo è il concetto che si dà all'integrazione. La seconda, l'inclusione, non parte dalla struttura che a priori non esiste. Questa organizzazione scolastica non esiste a priori, questa struttura didattica, organizzativa. parte dai soggetti, da tutti e da ciascuno. Ne individua, come detto, ogni aspetto della personalità e della storia personale. I bisogni, le carenze, le difficoltà, le particolarissime esigenze e si organizza per rispondere al meglio. La struttura si va costruendo. Non dal progetto alle sue modificazioni ritenute necessarie per alcuni, ma dai bisogni dei singoli al progetto. Io mi auguro che sia chiaro questo concetto. È questo che noi vediamo come differenza fra integrazione e inclusione. anche nell'integrazione c'è lo sforzo per adeguare la realtà ai bisogni, ma la realtà è già strutturata, esiste. L'inclusione, invece, parte, come ho detto, dal soggetto, dai suoi bisogni, dai soggetti e si va costruendo in risposta a questi bisogni in forme variegate, anche in forme diversificate, perché l'organizzazione didattica ed educativa deve saper cogliere i bisogni di tutti e rispondere, anche in maniere diversificate, ai bisogni di tutti. La legge 104 del 1992 rimane la fonte primaria per l'intero processo anche oggi. I riferimenti sono sempre a questa legge 4 che ha disciplinato tutti gli aspetti possibili della vicenda dell'integrazione scolastica e dell'assistenza e cura appunto per la disabilità. Tale norma prevede tutti i passaggi e le azioni relative l'individuazione della disabilità, i criteri dell'integrazione, la documentazione, l'organizzazione dei gruppi di programmazione e gestione. Ma questa legge 104 non è rimasta ferma. È stata modificata in diversi articoli, in particolare in alcune procedure. Una serie di leggi secondarie, partendo appunto dalla 104, hanno introdotto criteri e modalità sempre diverse per tutti i vari punti. Ecco, chi volesse approfondire la problematica può seguire il percorso giuridico dell'integrazione che offre l'opportunità di comprendere meglio i vari aspetti della questione, anche perché di essi è possibile cogliere la necessità, le motivazioni e la loro progressiva realizzazione. È un costume molto importante quello di accompagnare la conoscenza delle idee e delle situazioni con il riferimento alle norme che hanno portate ad essere. Perché se noi partiamo dalle norme, in questo caso dalla legge 104, e tutte le modifiche che si sono susseguite, noi riusciamo a capire più addentro, capiamo le problematiche, le motivazioni che hanno portato al cambiamento, le carenze che sono state individuate. Ecco, io vi consiglio questo tipo di discorso. Da parte mia, in ogni mia lezione, ci sarà sempre, costantemente, il riferimento alle norme come base del nostro discorso. Abbiamo detto, la legge 104 è la base. La novità fondamentale, diciamo, i cambiamenti molto più grossi e molto più profondi, se sono avuti, come ho detto, con il decreto legislativo 66 del 17. Ma vediamo com'era l'organizzazione appunto voluta dalla legge 104 prima che interverisse questo decreto legislativo. E quindi trattiamo dell'individuazione del soggetto disabile, della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, del piano educativo individualizzato. Il soggetto disabile viene individuato, ovviamente, attraverso una certificazione sanitaria che può nascere direttamente dalla ASL o da un medico di base e poi approfondita, ovviamente, a livello di unità sanitaria locale. Inizialmente, vedete, questa organizzazione ha un carattere alquanto rigido a ciascuno il suo compito, ciascuno al suo posto, poi pian piano si comincia a capire che questa sistemazione non risulta particolarmente funzionale. Le novità appunto intervengono su questo punto. La ASL, la scuola, quindi il dirigente scolastico, gli insegnanti, ognuno ha un compito, nessuno può uscire dalle sue competenze. Dopo si scoprirà come questa rigidità organizzativa non risulta funzionale e che la possibilità dell'interazione, del rapporto, della vicinanza fra questi soggetti attori appunto della integrazione scolastica che dopo si chiamerà inclusione risulta molto importante e vantaggiosa per l'alunno disabile. E allora, per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap e cioè parte dalla certificazione e individua i problemi, le questioni, la compromissione appunto fisica o psichica del soggetto viene elaborata dalla ASL inizialmente dalla sola ASL è un compito specifico e preciso successivamente nel 2008 dopo l'intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 è stata chiesta la collaborazione della scuola e della famiglia ecco perché non chiamare alla collaborazione anche la famiglia e anche la scuola fin dai primi momenti nel momento in cui si elabora la diagnosi funzionale ecco la novità si supera questa rigidità iniziale la diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psicosociali va formulata evidenziando in modo particolare le potenzialità e le capacità dell'alunno quindi non solo la compromissione lo stato appunto fisico e appunto di deprivazione diciamo ma anche le possibilità le capacità è importante evidenziare questo perché questa evidenziazione ci dà chiara l'idea di dove si deve intervenire e di come si deve intervenire in relazione a tale adempimento l'ASL tramite i propri operatori provvede a redigere appunto questa diagnosi funzionale e ne rilascia copia alla famiglia la diagnosi funzionale dovrà essere predisposta per gli alunni che verranno iscritti in prima classe elementare primaria in prima media in prima media al primo anno della scuola media superiore per le nuove segnalazioni e certificazioni e per le nuove iscrizioni alla scuola dell'infanzia quindi si si elabora all'atto di riscrizione nella scuola dell'infanzia scuola elementare media inferiore media superiore viene aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e se necessario in qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno quindi nel passaggio della scuola dell'infanzia primaria e così via viene aggiornata ma può essere aggiornata anche in itinere all'interno della permanenza in un grado di scuola laddove ovviamente si manifestino degli aspetti che meritano attenzione che meritano quindi un ripensamento e una ricostruzione del quadro iniziale da più parti e da diverse pubblicazioni ci sono libri molto importanti su questa questione è stata presto sottolineata l'importanza che la diagnosi funzionale non fosse soltanto un documento medico clinico quasi una semplice certificazione sanitaria ma che evidenzi ogni tratto della persona delle carenze delle possibilità di ordine intellettivo cognitivo fisico comportamentale affettivo emotivo relazionale che fosse un quadro completo della condizione e delle possibilità in ogni dimensione della persona un documento che riesca a connotare con precisione limite e possibilità del soggetto che ci faccia il quadro della persona che non sia un documento chiuso e definitivo ma che venga considerato aperto e aggiornabile alla luce dei progressi che vengano rilevati che sia inoltre il frutto di una significativa di collaborazione con la scuola e con la famiglia già l'intesa stato regione del 2008 l'aveva sancito stabilito e quindi una diagnosi funzionale che non coincida che non si limita alla certificazione medica iniziale e che agevoli la predisposizione del profilo dinamico funzionale prima e del piano educativo individualizzato poi ecco fin qui la ASL abbiamo detto con le aperture che abbiamo pure individuato i dirigenti scolastici ecco la scuola sulla base della documentazione pervenuta dall'azienda ospedaliera dalla ASL diciamo chiedono la nomina degli insegnanti specializzati insegnanti di sostegno e l'eventuale deroga al rapporto 1-4 che è previsto in caso di particolare gravità questo rapporto si può appunto contenere a 1-3 a 1-2 addirittura quindi determinano l'organico la certificazione complessiva secondo un modello appositamente predisposto e nei tempi previsti il dirigente scolastico comunica al comune la presenza dei soggetti con disabilità e le varie necessità i comuni rispondono ovviamente per il loro dovere di assicurare il diritto allo studio e quindi a seconda dei casi dell'assistente per il soggetto disabile il trasporto la mensa e così via il profilo dinamico funzionale invece vede che è una interazione importante fra ASL e scuola notate l'espressione profilo dinamico funzionale qui si tratta appunto di iniziare a vedere le direzioni che deve avere l'intervento a vantaggio dell'alunno sulla base della sua condizione il profilo dinamico funzionale redatto dopo un primo periodo di inserimento è indicativamente nei primi tre mesi della classe prima di ogni ordine e ciclo di scuola il soggetto deve essere conosciuto in questo periodo due o tre mesi ovviamente i rapporti fra scuola e sistema sanitario devono essere costanti e importanti dai docenti curriculari dagli insegnanti di sostegno con la collaborazione dei familiari dell'alunno e con la consulenza degli operatori dell'azienda sanitaria il profilo dinamico funzionale è formulato sulla scorta della diagnosi funzionale nonché sulla conoscenza appunto che si fa realizzare il profilo dinamico funzionale poi si traduce per opera della scuola nel progetto educativo nel progetto educativo centrato sul singolo quindi il piano educativo individualizzato o personalizzato che è il progetto educativo elaborato specificatamente per l'alunno e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione quindi il problema di nuovo ritorno indietro la scuola elabora questo progetto individua le necessità gli interventi chiama in causa ovviamente il comune poi a sua volta e la stessa la stessa ASL per gli interventi di riabilitazione per la predisposizione del PEI è necessario che alla scuola vengono ovviamente forniti tutti gli elementi necessari resta chiaro comunque che la stesura concreta del PEI è a carico della scuola a modificare questa organizzazione interviene come ho detto la buona scuola la legge 107 2015 con il decreto applicativo il decreto 66 del 2017 vediamo cosa dice la buona scuola nel programmare le modifiche ecco leggiamo il comma 181 voi sapete che la buona scuola è una legge di un solo articolo e di 212 commi ecco dell'organizzazione scolastica delle innovazioni nel campo della scuola in particolare si interessa il comma 180 che parla di necessità di apportare delle modifiche appunto ma soprattutto il comma 181 alla lettera C questo comma ve lo voglio leggere tutto in tutti gli aspetti perché sono indicati appunto gli aspetti che debbono essere modificati e che saranno modificati col decreto legislativo applicativo comma 181 lettera C qual è lo scopo promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso 1 la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria ecco bisogna ridefinire la funzione dell'insegnante di sostegno dargli la cultura necessaria le conoscenze necessarie le competenze necessarie per cui devono essere previsti degli istituti universitari degli appositi percorsi di formazione universitaria 2 la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione anche questo è un criterio abbastanza importante per l'alunno disabile cambiare ogni anno docente di riferimento questo docente di sostegno può rappresentare un problema ecco questa modifica e cioè assicurare la continuità educativa con la presenza dello stesso insegnante durante l'intero percorso dei vari gradi di scuola è un elemento che appunto risponde continua a migliorare contribuisce a migliorare le risposte ai bisogni degli alunni disabili vedete come tutto è finalizzato alla inclusione alla migliore inclusione 3 l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche sanitarie e sociali tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale i bisogni dell'alunno non possono essere lasciati alla libido delle istituzioni non possono essere sacrificati dai limiti che determinate istituzioni possono avere le prestazioni minime le istituzioni debbano rispettarle la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica questo è chiaro degli indicatori valutativi per l'istituzione scolastica la scuola ha corrisposto effettivamente ai bisogni dell'alunno ecco degli indicatori che debbono dirci la verità che debbono affermare la congruità o meno delle risposte della scuola ai bisogni del disabile la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi dell'articolo 3 e 4 della legge 104 92 ecco le modalità i percorsi individuati la collaborazione fra i vari specialisti la revisione di tutte le procedure l'avevamo detto la legge 104 rimane ma le procedure vengono modificate a vantaggio appunto del disabile la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione prima di questo decreto che nella prossima lezione esamineremo punto per punto erano previsti dei referenti dei responsabili per l'integrazione ovviamente c'era l'equipe medico-psicologica delle ASL e poi c'era un rappresentante un responsabile a livello di provveditorata agli studi quindi dell'ufficio provinciale c'erano anche delle forme organizzative a livello di scuola bene questi gruppi queste persone questi referenti questi attori vengono ridisegnati vengono visti in maniera diversa vedremo la prossima volta come partendo dall'ufficio scolastico regionale fino all'unità scolastica sono previsti dei gruppi di persone di responsabili con compiti ben precisi e organizzati attraverso un sistema di relazioni importanti significative dall'alto in basso e viceversa cioè ecco si crea una rete di organizzazione una organizzazione razionale funzionale appunto a poter corrispondere alle necessità e ai bisogni noti o che vengano a essere conosciuti in itinere vedremo anche queste organizzazioni di gruppi e di responsabili a livello territoriale la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica vedete questo punto 7 è molto importante la scuola si deve preparare all'inclusione partendo dai dirigenti scolastici anche i dirigenti scolastici devono seguire attività formative per la migliore appunto risposta ai bisogni del disabile ai fini dell'inclusione obbligo di formazione iniziale e in servizio già il concorso per l'accesso alla funzione di dirigente scolastico prevede certe competenze ma anche in servizio devono essere appunto previste modalità di aggiornamento e di formazione appunto che rendano adeguata appunto la risposta dei dirigenti scolastici al problema dell'inclusione e ovviamente per tutti i docenti studenti ancora nel numero successivo numero 8 si parlerà della stessa formazione per tutto il personale scolastico che significa questo? Significa che il problema dell'inclusione riguarda l'intera unità scolastica non soltanto il docente di sostegno non soltanto gli insegnanti che hanno in classe che ospitano il bambino disabile abbiamo visto già che la disabilità è un problema generale collettivo presuppone appunto una organizzazione in risposta ai bisogni ma se poi consideriamo che accanto ai disabili esistono le varie situazioni di bisogno per i quali noi magari possiamo chiamare in causa tutti gli scolari capiamo bene come il problema dell'inclusione sia un problema dell'intera unità scolastica dell'intera collettività scolastica anche del personale ATA anche del personale amministrativo tecnico e ausiliario la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12,9 della legge 1992 104 e cioè i bambini impediti a frequentare per motivi di salute le condizioni di salute la malattia l'ospedalizzazione non debbono essere motivi appunto per escludere per interrompere il problema dell'inclusione scolastica e dell'inclusione sociale si debbono trovare forme e modi per intervenire anche a vantaggio di questi soggetti ecco questi nove punti della legge cambiano abimisi diciamo pensano un cambiamento abimisi dell'organizzazione fermo restando che la legge 104 è appunto la fonte primaria ma la presa in carico di questi nove punti e la loro traduzione appunto in norme di legge operanti prefigurano un quadro affatto nuovo dell'integrazione scolastica che si deve ovviamente chiamare adesso inclusione scolastica bene dalla legge della buona scuola da questo comma 181 lettera c verrà fuori il decreto 13 aprile 2017 numero 66 ma guardate appunto a sottolineare la dinamicità e la novità costante in questo settore a distanza di poco tempo interverrà un seccondo decreto legislativo il decreto 7 agosto 2019 numero 96 che porta questo titolo modifiche al decreto 66 2017 come vedete il problema dell'inclusione è sempre aperto sempre dinamico mai conchiuso